Appuntamento nel prossimo fine settimana anche nel centro Abruzzo con l'iniziativa 100 città contro il dolore promossa dalla fondazione ISAL. Stand informativi verranno allestiti a Sulmona, Pratola Peligna, Castellisangro, Popoli e Torre dei Passeri per sensibilizzare sul dolore cronico che affligge 13 milioni di italiani di cui 4 mila non riescono ad accedere a cura adeguate. Sulla base di questi dati allarmanti il vicepresidente nazionale della fondazione ISAL Gianvincenzo D'Andrea nelle giornate di sabato primo e domenica 2 ottobre intende portare la problematica all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. È una dimensione di un problema che ci fa ritenere che si tratti di una vera e propria epidemia nascosta e noi proprio per aiutare chi soffre a raggiungere il conseguimento di quel diritto che è il diritto a non soffrire che tra l'altro è sancito in una legge approvata all'unanimità dal Parlamento nel 2010. Vogliamo gridare forte che tutti dobbiamo muoverci, tutti dobbiamo darci una mano perché il diritto a non soffrire è un diritto fondamentale e ogni uomo non può soffrire inutilmente come purtroppo succede oggi. Il dolore cronico che spesso si è convinti rappresenti esclusivamente il dolore associato a una malattia tumorale terminale non è questo. Sono tante le forme di dolore cronico che danno sofferenza intensa a chi ne ha affetto fino a sconvolgere proprio la qualità della vita e tantissimi pazienti poi finiscono per rinchiudersi in se stessi per interrompere le relazioni sociali e come dice lo stesso Ministero per la Salute il 16% di chi soffre di dolore cronico è tentato anche di percorrere la strada del suicidio. Credo che questo debba farci riflettere. 100 città contro il dolore coinvolge 135 località italiane ed europee a dimostrazione dell'alta sensibilità delle popolazioni. Gian Vincenzo D'Andrea preferirebbe un maggior riscontro anche da parte delle istituzioni ed in particolare della regione Abruzzo. Credo che l'ultimo esempio del paziente affetto di dolore cronico, l'artista, il pianista di Chieti che è stato carcerato addirittura perché faceva ricorso alla cannabis terapeutica la dice lunga sul fatto che per tanti ancora oggi non c'è una risposta adeguata al problema. L'Abruzzo è stata una delle prime regioni a legiferare sull'uso della cannabis terapeutica è stato fatto nel 2014 ma dal 2014 non è stato fatto niente quindi chi in Abruzzo ha bisogno per curare la sua condizione di dolore cronico di cannabis terapeutica e non può che o verificare la possibilità di una concessione in altre regioni o procurarsela in maniera non legale oppure trovare qualche farmacia disposta a spedire la ricetta quando ce l'ha compilata però deve assumersi l'onere di una spesa che può variare dai 400 ai 1200 euro. Non credo che questo sia giusto. Gli stand informativi saranno allestiti sabato mattina sul Mona in piazza 20 Settembre all'interno dell'ospedale e nelle piazze di Castel di Sangro, Popoli e Torre dei Passeri nella giornata di domenica in piazza Madonna della Libera, Prato la Peligna e a Castel di Sangro.